Presidente Saviozzi, l'Albisola resta a più due sulla Saremese, una partita difficilissima oggi contro il Givi Borgo, ma la squadra ci ha creduto fino alla fine ed è riuscita a ribaltare una situazione molto difficile dopo i primi 20 minuti. Sì, in effetti noi siamo partiti veramente forte all'inizio e magari potevamo pretendere qualcosa in più. Loro alla prima occasione effettivamente ci hanno castigato. È stata durissima, però sapevo che comunque i ragazzi sicuramente la ribaltavano. Così è stato. La Saremese ha vinto proprio all'ultimo minuto, si dovrà andare a Saravezza per coronare questo sogno della Serie C. Andremo a Saravezza per coronare, cercare di coronare questo sogno, che questo è veramente un sogno. 26 anni come Presidente dell'Albisola, oggi sugli spalti uno spettacolo davvero incredibile, un po' a coronare questo lungo percorso iniziato tanti anni fa. Sì, in effetti sì, sono 26 anni. Dalla terza categoria arrivare a questi livelli, grazie a tutte le persone che comunque hanno collaborato e lavorato con me. In modo particolare Gianpiero Colla, che effettivamente è stato quello che ha dato una mano ad aiutare, a organizzare e comunque a credere in un sogno che qui a Dalbisola francamente non si poteva neanche avvicinare a pensare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.